Elle Fanning, che abbiamo recentemente visto in Maleficent accanto ad Angelina Jolie, è stata scelta come coprotagonista di All the Bright Places, adattamento cinematografico del romanzo Young Adult di Jennifer Neven. Il film sarà diretto da Miguel Arteta, già regista di Youth in Revolt e Sida Rapids. La storia racconta di Violet, una ragazza che sogna di diventare grande al più presto per lasciare finalmente la cittadina dell'Indiana dove è cresciuta per cercare anche di superare la morte della sorella. Sembra interessante? Fatemi sapere nei commenti sotto e ricordatevi di iscrivervi al nostro canale. Noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao a tutti!